Eccoci qua in diretta, il sabato notte dinner and dance del convento di Lonato. Allora, siamo in compagnia di una sposa. Secondo me lei ha deciso di sposarsi, giusto? Sì. Ok, con chi ti sposi? Lorenzo. Allora, con Lorenzo quando? Tra due settimane. Il? 21 settembre. Allora, con Lorenzo il 21 settembre, da dove vieni? Torino. Da Torino, Piemonte. Allora, come mai hai deciso di sposarla? Perché ci amiamo. Perché vi amatelo. Dimmi come ha fatto a farti capire che è l'uomo giusto della tua vita. Perché è l'unico uomo che non mi annoia. È l'unico uomo che non mi annoia. E' molto importante che sia l'unico uomo che non ti annoia. Allora, dimmi una cosa che ti piace di lui e una cosa invece che non riesci a sopportare. Cosa mi piace di lui, il suo modo di fare, in generale, ha un bellissimo modo di fare. Cosa non mi piace di lui, è tanto preciso. È troppo preciso. Quindi te sei una ragazza un pochino più disordinata. Sei un pochino più disordinata a te. Allora, salutiamo il tuo futuro marito che anche lui è di Torino. Salutiamo tutto Torino. Ciao Torino. No, no, no. We're stopping you. Don't be prepostruous. I've got a... Grazie a tutti.